Un saluto come state ben ritrovati, vi invito come sempre a scrivervi in questa zona sul logo L, se non avete ancora fatto lasciate un bel like, commentate numerosi, vigilia di campionato ma si parla molto anche di mercato, nelle ultime ore il Milan sta valutando l'ipotesi di fare un attaccante per l'emergenza che si è creata, a oggi il Milan ha soltanto Giroud che arriva dal mondiale a una certa età, non può giocare ogni tre giorni e l'Azetic, stop, Rebic non c'è, Origi non c'è, Ibra non c'è. Per questo nelle ultime ore si valutano diverse idee, diverse proposte, è stato proposto dall'agenzia You First che tra l'altro è la stessa di Sergio Rico, portiere che è molto vicino alle intenzioni del Milan, alle idee del Milan in questo momento, un giocatore del Real Madrid che è Mariano Diaz, è un evergreen, se ne parla spesso, giocatore che al Real non è riuscito a imporsi anche per la concorrenza ma non solo, ha 29 anni, è spagnolo, o meglio nato in Spagna ma è della Repubblica Dominicana, sono gli ultimi sei mesi di contratto con il Real Madrid, quest'anno ha giocato in totale 25 minuti tra Liga e Champions League, lo scorso anno non aveva partito un gol e un assist in Liga. Proposta fatta che al momento non scalda più di tanto il Milan che comunque valuta e sentirà ovviamente altre proposte che nel frattempo arriveranno, cercherà di prolustrare il mercato in cerca di altre idee come quelle insomma legate al portiere. Per quanto mi riguarda Mariano Diaz non è il massimo della vita e non credo che avrebbe un impatto così importante al Milan, però registriamo questa proposta che vedremo se sarà approfondita oppure no, ripeto al momento il Milan sembra molto molto tiepido. Iscrivetevi qui sul logo L se non avete ancora fatto, siamo oltre 10.000 iscritti, lasciate un bel like qui sotto e commentate numerosi così condividiamo sempre il punto di vista con civiltà e rispetto. Mi viene da dire buon campionato a tutti, lo dico? Lo dico, buon campionato a tutti, finalmente buona ripresa di campionato a tutti. Ciao ragazzi, a prestissimo!